allora mi chiamo Ivana Matteacci ho vent'anni e sono di Mola di Bari in provincia di Bari appunto e di base sei già estetista unico tecnica o hai fatto già qualche altro lavoro prima allora io ho iniziato questo percorso ad ottobre facendo un corso di base gel in presenza nel mio paese e siccome ho iniziato poco dopo a seguirti su Instagram mi sono incuriosita perché vedevo dei risultati pazzeschi e quindi per quanto riguarda la manicure ho voluto vedere come fosse appunto il tuo corso ecco e come mai hai deciso invece di fare le unghie? diciamo che ho sempre avuto la passione sin da piccola cioè come a zia che le faceva anche se non era da suo lavoro però aveva anche lei questa passione però vi lo faceva ai parenti e io ero piccola e stavo sempre con lei a interessarmi di questo e sono sempre stata una che appunto a cui piaceva avere le mani curate tutto qui e invece vorresti poi farlo diventare un lavoro questo poi in futuro o lo vuoi tenere come passione? mi piacerebbe comunque però nel senso non voglio fare le cosette un po' al tempo però adesso mi piace come passione poi magari potrò diventare un vero e proprio lavoro ecco e invece per quanto riguarda i corsi che hai fatto comunque precedentemente che poi avrai fatto penso dal vivo da te ecco hai trovato delle differenze tra questo corso e quello che hai fatto precedentemente? tantissimo tantissimo infatti mi sono diciamo mandata le mani per non averti scoperto prima perché per quanto riguarda i corsi che ho fatto in presenza cioè quello tuo niente a che vuoi dire ci sono diciamo più informazioni non perché quello in presenza non sia valido ma perché semplicemente secondo me è più una quantità di cose da sapere a parte il materiale ecco proprio l'approfondimento di ogni lezione qualsiasi dettaglio cioè qualsiasi cosa quello in presenza sia no mi avrà dato il 20% di tutto ciò che ho imparato in questi due mesi con te ecco e invece per quanto riguarda il fatto che appunto sia stato online inizialmente ti ha spaventato un pochino dio chissà che cosa avrò comprato chissà che cosa mi arriverà come mi spiegheranno in realtà ho sempre cioè mi sono informata tanto prima di acquistarlo perché comunque era cioè non lavorando io non avendo un lavoro stabile avevo comunque paura di acquistare una cosa che costava comunque tanto però ovviamente mi sono informata e ho visto che evidentemente ne valeva la pena poi recensioni super positive io vedo sempre le recensioni ecco per fortuna e quindi subito ho cioè non ci ho pensato due volte dopo aver visto appunto questi risultati recensioni positive e tutto quindi tra l'altro complimenti perché anche il tuo compito ovviamente è bellissimo soprattutto il compito finale è super veramente preciso ci sono ancora diciamo delle cose su cui migliorare però veramente siamo molto 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 vicini alla perfezione anche se sulla fotografia ancora un pochino ma infatti c'è ti avevo anche chiesto nel gruppo diciamo che non ero rimasta proprio soddisfatta del mio compito cioè del risultato più che altro perché pensavo di averlo fatto meglio invece diciamo non sono rimasta molto contenta del voto però cioè nel senso occhio dato il meglio di me perché comunque lo faccio da poco è vabbè comunque in realtà puoi sempre rifarlo eh nel senso se hai voglia puoi sempre ripeterlo per ottenere anche insomma il risultato che vuoi quindi comunque potrai sempre ripeterlo insomma all'infinito e invece quindi se vuoi puoi anche riparlo e ripeterlo e invece volevo dire ehm per quanto riguarda il corso in sé qual è quella cosa che invece hai imparato durante il corso che dici caspita se non avessi imparato questa cosa non so come farei adesso diciamo che sono rimasta molto colpita della mani perché è comunque la cosa principale di questo corso non avevo mai visto una mani più così pulita anche nel mio stesso paese cioè ho cambiato tante estetiste e non ho mai visto una che lo fa così perfettamente come l'ho visto farlo da te ecco e invece eh le persone comunque su cui lavori su cui comunque hai lavorato insomma così hanno notato questa differenza dopo il corso sì me l'hanno detto in in tanti anche se io sono sempre molto pessimista cioè nel senso non mi so diciamo cioè non mi so a pensare quanto lo fanno gli altri esatto quindi eh anche se io non pensavo di essere migliorata gli altri mi hanno detto che hanno visto questo cambiamento oh bene benissimo sono veramente felicissima di questa cosa e invece per quanto riguarda il l'assistenza come ti sei trovata eh ti sono ti è stata utile oppure magari preferiresti cambiare qualcosa ehm insomma in generale sia dal punto di vista dell'assistenza ehm dal punto di vista della vendita eccetera eccetera dei pagamenti e tutto sia dal punto di vista dell'assistenza del ehm del corso in sé per sé quindi sulla manicure sul sul sulle spiegazioni allora io ehm riguardo il pagamento mi sono trovata super bene perché comunque ehm avevo sia la possibilità di pagare a rate che è la possibilità di di pagare tutte insieme siccome in quel momento mi hanno messo tutti i soli da parte per fare questo corso li ho avuti subito disponibili e quindi o l'ho acquistato subito senza postare avanti rate che magari cioè non volevo avere questo impegno eh però ovviamente penso che chi non ha potuto acquistarlo sin da subito le le rate sono molto comode sì quello sicuramente perché ma appunto chi chi magari non è la propria possibilità dici vabbè in qualche modo insomma riesce comunque a pagarlo eh appunto seguendo il corso vengono fuori anche altre spese tutto il materiale io comunque avevo già un po' di cose non sono riuscita nemmeno a comprare tutto quello che appunto hai elencato perché cioè anche io nel senso ho bisogno di un po' di tempo però per quanto riguarda il pagamento proprio dal corto cioè è ottimo poi per quanto riguarda l'assistenza cioè in questi due mesi mi sono trovata bene per entrambi i mesi ogni volta che avevo qualche domanda penso che mi rispondeva la tua collega sì mi ha sempre dato le spiegazioni tutto ciò che le ho chiesto me l'ha sempre detto alla fine della giornata cioè quindi non dovevo aspettare più di tanto cioè è sempre in giornata avevo la risposta oh bene bene e quindi lo consiglieresti poi questo corso anche ad altre persone? esattamente se mi chiesto io ovviamente dirò questo no veramente grazie perché cioè comunque a me interessa tantissimo capire anche come vi trovate anche appunto non solo dal punto di vista del corso del diciamo anche delle lezioni se sono comprensibili e anche un'altra domanda ancora è cambieresti qualcosa all'interno del corso cioè aggiungere qualcosa piuttosto che togliere piuttosto che cambiare proprio nell'organizzazione allora magari diciamo avrei aggiunto qualcosa sulla io ho un po' di di difficoltà nella rimozione del del più che altro non del del semi permanente o del gel più che altro quando si trovano dei sollevamenti io non riesco a gestirmi ancora con la frisa cioè perché non so se è un problema dalla mia frisa però provo su mia madre che è la prima persona di cui mi posso fidare e vedo che comunque quando vado leggermente ad insistere sul sul sollevamento lei mi dice che inizia a bruciare quindi ho subito cioè sono costretta a togliere la la fresa e preferisco farlo con la lima al momento ok quando il sollevamento quindi avrei preferito capire un po' più sul sollevamento ok tutto chiaro è bene non è il caso appunto se riesco a raccimolare qualche modella in questi in questo periodo che riesco proprio magari a trovare qualcuno che abbia già dei sollevamenti anche per me è difficilissimo trovarle perché effettivamente o le persone su cui lavoro non ce li hanno insomma quindi per me è un po' difficile però appena trovo qualcuno magari cerco di inserire un video in più così almeno ci sarà anche questo allora ti ringrazio tantissimo veramente per questa intervista per aver voluto partecipare per tutto spero comunque magari di rivederti sicuramente ad altri percorsi se ti capiterà ecco e niente io ti ringrazio tantissimo e ti auguro buona giornata e ti ringrazio di nuovo tantissimo grazie mille a te Angelica grazie anche per me ciao ciao ciao